Quando un bambino si fa male, la madre istintivamente gli mette la mano sul punto dolente. Perché? Perché sente che la sua mano può lenire o addirittura sconfiggere il dolore. In che modo? Con l'energia d'amore che voi chiamate prana. Quando un bambino si fa male, la madre istintivamente gli mette la mano sul punto dolente. Perché? Perché sente che la sua mano può lenire o addirittura sconfiggere il dolore. In che modo? Con l'energia d'amore che voi chiamate prana. Quando un bambino si fa male, la madre istintivamente gli mette la mano sul punto dolente. Perché? Perché sente che la sua mano può lenire o addirittura sconfiggere il dolore. In che modo? Con l'energia d'amore che voi chiamate prana.